Il nuovo cinturato è un pneumatico nato per questi periodi in cui l'ambiente è estremamente importante, ha al suo interno una revisione generale di tutte le mescole che compongono il pneumatico, perciò vediamo anche qui l'attenzione all'ambiente eliminando gli oli aromatici, eliminando i metalli pesanti e cercando di portare tutta la nostra tecnologia verso la prestazione, ma anche la riduzione della resistenza a rotolamento, resistenza a rotolamento che possiamo collegare con il consumo di carburante e con le emissioni di CO2. Per maggior chiarezza abbiamo deciso anche di comunicare agli utenti finali le caratteristiche intrinseche del P6 che sono appunto la riduzione del consumo di carburante, l'attenzione all'ambiente con la riduzione degli oli aromatici e dei metalli pesanti e la resa chilometrica migliorata.